La modifica dell'articolo 316 del codice penale con una pena e una prescrizione inferiore a quella prevista per il peculato, ovviamente chiedo al Presidente Conte o al Ministro Bonafede se questa sarà applicabile ai tanti processi in corso di spese pazze a carico dei consiglieri regionali di Lega e di altri partiti per capirci se questa modifica inciderà tra gli altri sul processo dal Vice Ministro Rixi, lo chiedo perché ad esempio il Presidente dell'Anac Cantone ha detto che questo rischio c'è. Chiarisco che si tratta di un problema che non esiste, cioè noi stiamo parlando di un emendamento, il famoso emendamento di cui tutti parlano, è un emendamento che aggrava una fattispecie di reato, cioè c'è il reato del 316 ter, cioè l'indebita percezione di erogazione a danno dello Stato che con quell'emendamento viene aggravato quando è commesso da un pubblico ufficiale. La norma non pone dubbi su questo, quindi abbiamo un emendamento che aggrava una pena. Sottolineo, vista la caciara di ieri, che nessuna forza politica accorgendosi di questo emendamento che doveva salvare non so chi, che non salva nessuno, nessuna forza politica ha presentato un emendamento in aula per cancellare quella parte di norma, quindi quella parte di norma è stata approvata perché è una buona norma. Questo emendamento, ripeto, siccome rappresenta un aggravante, non incide sul comportamento che configura il reato, quell'aggravante incide sul reato aggravandolo. Quindi l'indebita percezione di erogazione a danno dello Stato individua un comportamento, il peculato individua un altro comportamento, sfido chiunque a sostenere che l'emendamento in questione cambia la condotta che viene punita per farla diventare peculato. Poi, per carità, nella vita io non entro nell'interpretazione che daranno i magistrati, non entro nelle difese che porteranno avanti tutti gli avvocati d'Italia, questo ciascuno interpreta la norma come richiede, però questa norma è oggettivamente una norma che non incide nel comportamento che viene punito, quindi rimangono due reati distinti. Aggiungo un'altra cosa importante, verrà un momento in Italia in cui la smetteremo di parlare della giustizia in termini personali, perché se c'è una cosa che non è smentibile è che questo Governo è stato compatto nel portare avanti una legge anticorruzione, addirittura approvandola un mese prima del tempo, dimostrando di essere molto forte nel rappresentare le esigenze di legalità e di giustizia di questo Paese e di non battere ciglio di fronte invece alla necessità di sanzionare i comportamenti non punibili. Per cui alla domanda su salva chi, che ci tengo a dire non salva nessuno, io mi rifiuto di rispondere perché mi rifiuto di accettare la logica ad personam, poiché per circa 30 anni la giustizia italiana è stata, come ho detto fin dall'inizio, ingabbiata nel pantano delle discussioni personali e non si pensava mai ai cittadini. A me interessa che un cittadino che entra in un tribunale trova un tribunale efficiente che gli dà giustizia in tempi brevi, in tempi ragionevoli e il Governo sta lavorando per questo fin da ora, perché come sapete abbiamo già messo mano alla riforma del processo penale. A me interessa che un cittadino quando entra in conferenza stampa creda che veramente la legge è uguale per tutti e mi rifiuto di accettare qualsiasi, e ieri non ho risposto a nessuna polemica, proprio perché mi rifiuto di accettare qualsiasi provocazione che voglia riportare la giustizia ad un tempo in cui della giustizia si parlava soltanto a livello ad persona, anche perché in questo caso, questo lo sottolineo una volta per tutte, non ci sono i presupposti per nessun dubbio di alcun tipo.